Al quarto piano di questo palazzo, sede della giunta regionale toscana a due passi dal Duomo di Firenze, è conservato un tesoro inestimabile, la cui esistenza è nota solo agli addetti ai lavori. È il centro di documentazione, cultura e legalità democratica, un sottotetto di poche decine di metri quadri, ricco però di storia e informazioni. È un centro di documentazione, non è solamente una biblioteca, quindi oltre ai libri che sono normalmente presenti nelle biblioteche, abbiamo anche altri tipi di materiali, abbiamo documentazione, abbiamo la raccolta quasi completa, pressoché completa degli atti delle commissioni parlamentari d'inchiesta, sia per quello che riguarda l'antimafia, ma anche per quello che riguarda per esempio la loggia massonica P2, il caso Moro, la commissione stragi e le altre commissioni d'inchiesta che riguardano questi temi. Al di là della biblioteca, del Senato e della Camera dei Deputati, gli atti delle commissioni parlamentari d'inchiesta in cartaceo ci sono quasi esclusivamente qui. Un tesoretto accumulato in questo centro, nato per volontà della regione toscana nel 1994. Il periodo era quello, si cominciava a ragionare, dell'espansione della criminalità organizzata di tipo mafioso nelle regioni non tradizionalmente colpite da questo fenomeno, regioni del centro nord e anche la Toscana. Toscana che in realtà si era già misurata con il fenomeno mafioso nel 1993, quando insieme a Milano e Roma anche Firenze diventa testimone della capacità di Cosa Nostra di uscire dai confini della Sicilia. L'ordigno che il 27 maggio sventra l'Accademia dei Georgofili non uccide infatti soltanto 5 persone, né distrugge il 25% delle opere della Galleria degli Uffizi, ma ferisce per sempre un'intera città. Per cui c'era la necessità di attivare delle forme anche di conoscenza nuove, che prima non erano state pensate, di attivare delle forme di conoscenza e di informazione, di documentazione anche su questi fenomeni, sulla penetrazione della criminalità organizzata in Toscana. Quale miglior sistema dunque se non quello di dotarsi degli atti delle commissioni parlamentari d'inchiesta, non solo però quelli che riguardano la mafia e la sua penetrazione in Toscana, ma anche... Gli atti parlamentari sulla strage di Via Fani, il rapimento e l'omicidio di Aldo Moro, gli atti della commissione parlamentare sulla loggia massonica P2. Abbiamo atti giudiziarie, soprattutto sentenze, abbiamo l'archivio pubblico più importante, diciamo, su questi tipi di argomenti di sentenze, circa 350 sentenze, che noi offriamo alla consultazione. Documenti cartacei in originale, arrivati al centro di documentazione della Regione, grazie a donazioni effettuate dai privati. La maggior parte degli atti parlamentari sono stati donati da Luciano Violante. Abbiamo un fondo donato da Sandra Bonsanti, che riguardano soprattutto la loggia P2, ma anche il terrorismo, il terrorismo rosso, il terrorismo nero. Poi abbiamo materiali da altri giornalisti, per esempio Rosario Poma, giornalista della Nazione di Firenze, che era uno studioso del fenomeno mafioso e che alla sua morte ha donato il materiale al nostro centro. Il totale della documentazione è impressionante. 5.000 volumi tra saggistica e letteratura divulgativa, 130 raccoglitori che contengono gli atti della Commissione parlamentare sul caso Moro, 120 sulla loggia P2 e altre centinaia tra quelli prodotti dalla Commissione stragi e quella sul terremoto dell'Irpinia del 1980. Abbiamo anche e soprattutto quasi 8.000 documenti giudiziari che comprendono sia sentenze in materia di terrorismo, sia di mafia, e poi altri documenti che non sono sentenze, ma sono sempre documenti legati a processi. Abbiamo audiovisivi, abbiamo tesi di Laura, un archivio di tesi di Laura, tutti i nostri materiali sono tutti a disposizione al pubblico, senza limitazioni, se non quelle di legge, e sono disponibili e accessibili tramite cataloghi che sono pubblicati sul nostro sito su internet. A frequentare il centro sono in particolare ricercatori, studenti universitari, giornalisti e in alcuni casi magistrati italiani e non solo. Mandammo della documentazione riguardanti sentenze sul terrorismo italiano a una troupe televisiva tedesca che doveva preparare un documentario sul terrorismo. Ma le funzioni del centro non finiscono qui. Oltre a fare informazione e documentazione su questi temi, è anche il supporto per tutte le iniziative che vengono realizzate dalla Regione Toscana sui temi della promozione della cultura della legalità. Che significa in particolare i campi organizzati da Libera e dall'Arci, oltre che dalla Regione stessa nelle terre confiscate alla mafia, ma anche momenti di informazione ed educazione alla legalità nelle scuole. Dall'anno prossimo riparte il bando annuale rivolto alle scuole superiori con tematiche sulla legalità. Un bando per le scuole che ritorna dopo tre anni di blocco dovuti alla spending review e si concentra appunto sulla mafia e sulla legalità, segno di una spaccatura evidente tra gli interessi degli utenti del centro. I giovani e i laureanti in genere sono più attratti dalle fenomeni di criminalità organizzata e quindi dalla mafia. Per quanto riguarda invece il terrorismo, l'ostragismo e le versioni di destra e di sinistra, sono più attratti i docenti universitari, i ricercatori o i giornalisti. Una tendenza che secondo lo storico Leonello Toccafondi è segno anche di un progressivo disinteresse nei confronti della stagione del terrorismo. Per il fatto dell'interesse delle giovani generazioni si può dire che non avendo vissuto certi momenti magari ne ignorano addirittura la gravità sia dal punto di vista politico che delle conseguenze perché in fin dei conti il terrorismo ha bloccato in qualche modo lo sviluppo democratico di questo paese per 30 anni. Il fatto che il catalogo della documentazione presente al Centro Cultura e Legalità Democratica sia ora disponibile anche online può aiutare a colmare questa lacuna.